andiamo di qua fio cosa c'è di qua mai visto sembra un passaggio dal demonio ma nell'inferno è fattibile ma se si chiude che taglia il mio patamandella bosco sotto tetto chi campa qua bosco ma che c'è c'è il sotto tetto da fare però non sa che è grosso mi ha appena una stanza ci sono segni di civiltà per terra chi campa qua che le fa come montese chi campa ma no no vada qua c'è una serie di stanze anche di là va ancora avanti vada di qua anche potete capire una guarda mia per me era interessante già questo preludio di raffinatezza si vede un cazzo comunque bisogna venire con i flash per fare i video con le torce a dovere e poi uno stabilizzatore comunque ci vuole la camera con lo stabilizzatore che già questo secondo me qualcosa c'è dentro di simile ma la mia serie niente ragazzi è stata un'emozione ci siamo divertiti un sacco alla prossima ciao ciao ciao